Sono pronto, vi saluto molto rapidamente, tanto non perdete niente a non vedere la mia faccia, sblocco la condivisione e comincio la condivisione delle slide. Ok, allora, vado rapidamente, ho nascosto un po' di slide, quindi alla fine ne troverete di più sulla versione che sarà disponibile sul sito. Parlo di ODF, quindi Open Document Format e Sovranità Digitale. Abbiamo già parlato di come ci sia una forte intrusione di alcune aziende, e in particolare in questo momento di quelle che producono strumenti per la produttività nei confronti di quello che è avvenuto in questi ultimi mesi con la pandemia e quindi con la didattica a distanza, con il lavoro da remoto. Molte persone hanno continuato a usare gli strumenti che usavano in azienda, ignorando totalmente il fatto che, passando a modalità di lavoro più digitali, stavano da un lato consegnando i loro dati ad aziende a cui loro non pensano assolutamente di dare i loro dati, e dall'altro lato stavano usando formati che sono fatti per perpetuare questa situazione di lock-in. Quindi il problema in questo momento è quello di abilitare i data common e riprendere il controllo dei nostri dati. Noi oggi creiamo dati digitali e uno dei vantaggi principali dei dati digitali è la possibilità di condividerli, però vorremmo condividerli con chi vogliamo noi, non condividerli arbitrariamente perché qualcuno fa questi contenuti, li fa propri e decide quando e come condividerli. Chiaramente se fosse possibile avere fiducia sarebbe bellissimo, però i dati in questo momento purtroppo sono il monopolio di poche aziende e questo fa sì che si perdano tutti i vantaggi dell'intelligenza collettiva. Dobbiamo passare da una situazione attuale dove i dati vengono utilizzati come risorsa da qualcuno per fare profitto. Ci sono delle regole ma le sanzioni sono praticamente inesistenti. Noi produciamo i dati, gli altri li possiedono e i vantaggi della condivisione dei dati sono privatizzati e non pubblici. Quindi dovremmo passare ad avere i dati come risorsa comune su cui costruire nuovi servizi. Il trattamento dei dati è trasparente e rispettoso della privacy e la condivisione porta vantaggi a chi produce i dati, quindi agli utenti. Noi, come sapete, proponiamo il formato standard ODF che è un formato indipendente, solido e robusto. Questo è un vantaggio fondamentale. Riceviamo un sacco di email da gente che utilizza LibreOffice ignorando il vantaggio di ODF, utilizza LibreOffice, salva in formato Office OpenXML, perde i dati e dà la colpa a LibreOffice. La risposta è ci spiace, ve lo abbiamo scritto in tutti i modi di usare ODF perché è un buon formato. Avete voluto usare, continuare ad usare Office OpenXML, scusate il termine tecnico, una merda, e adesso purtroppo la merda l'avete schiacciata. ODF è interoperabile, è prevedibile. Chiaramente queste sono tutte informazioni che hanno alle spalle una ricerca per poter essere affermate in questo modo e consolidate. ODF è neutrale e perenne, stravolge il concetto di backward compatibility, che è un concetto assolutamente fasullo creato da Microsoft, e quindi ODF è il formato standard per la produttività su PC. Non diciamo che è il migliore, è più buono, no, è il formato standard perché garantisce interoperabilità, coerenza, prevedibilità, neutralità. Poi potrebbero esserci altri formati che sono migliori, ma non sono standard e quindi non permettono la condivisione. Le linee guida definiscono alcune regole per i formati aperti, devono essere pubblici, versionati, documentati esattivamente, non devono avere vincoli all'implementazione, essere riconosciuti da un ente di standardizzazione, devono essere mantenuti in modo condiviso da più enti, che significa in modo trasparente, e devono avere un formato consistente con la versione dichiarata. Cioè se io produco un ODF 1.2, devo essere certo che sia un ODF 1.2. Questo avviene con ODF, non avviene con Office OpenXML. Entrambi i formati, quindi sia ODF che il formato Microsoft, rispettano alcune condizioni. Sono pubblici, sono documentati esaustivamente, e se non è documentato esaustivamente un formato che ha una documentazione di 7.600 pagine, vorrei sapere cos'è documentato esaustivamente. Peccato che di queste 7.600 pagine, l'80% siano di fatto inutili, mentre le 840 di ODF sono tutte utili e veramente descrivono il formato. Nel caso di Office OpenXML, descrivono tecnologie proprietarie che sono state arbitrariamente inserite all'interno di un formato standard. E descrivono uno schema XML che definirlo creativo è fare una offesa al termine creativo. È probabilmente frutto di un studio accurato per la creazione di uno schema XML che sia il più complicato possibile per poter non essere compreso neanche dagli esseri umani dotati di capacità tecnologica avanzata. Entrambi non hanno vincoli all'implementazione, hanno questo Coven Not Too Su, che significa tu utilizzalo, io non ti posso far nulla praticamente, e sono entrambi approvati da ISO. Purtroppo ISO ha approvato anche Office OpenXML facendo un dispetto alla popolazione del mondo. Ci sono alcune cose però che vengono rispettate solo da ODF, il versionamento. ODF rispetta, o non solo il versionamento, ma ODF rispetta anche quello che c'è nella versione. Nel caso di Office OpenXML voi saprete la versione del software che ha creato il formato, ma non c'è un versionamento per il formato, e quel che è peggio, all'interno della stessa versione del software esistono N versioni del formato che non sono definite, praticamente che è impossibile riconoscere. Chiaramente è mantenuto in modo condiviso, ODF è mantenuto da questi, a questi aggiungiamo anche le aziende che sviluppano prodotti enterprise su LibreOffice, come CIB Collabora, quindi rispetta assolutamente una molteplicità delle implementazioni. Ha un processo trasparente, le minute del Technical Committee ODF sono pubbliche, è consistente con la versione dichiarata ODF 1.0, 1.2 e 1.3. Non è certamente un caso che Microsoft supporti ODF 1.1, che non è mai stato standard, e che forse potremmo definire come la versione peggio riuscita di ODF. In realtà era la versione in cui sono state inserite molte nuove funzionalità, quelle di ODF 1.2, ma non è stato fatto vero debugging, quindi era una versione con parecchie nuove funzionalità, ma anche con parecchi bug e parecchie regressioni. Bisogna fare poi un chiarimento che l'impostazione predefinita di Office per i suoi formati, nonostante siano passati 14 anni e nonostante l'impegno di Microsoft era quello di supportare il formato strict, che è quello realmente standard a partire dal 2010, quindi da dieci anni fa, continua a essere il transitional Office OpenXML, che non è un formato standard. Quando qualcuno vi dice ma è riconosciuto da ISO, no, transitional Office OpenXML non è riconosciuto da ISO. ISO ha detto lo riconosciamo in modo transitorio, ma non come standard, per consentirvi di avere un percorso verso lo standard. Quindi il formato Office OpenXML, che trovate nel 99,99999% dei documenti, non è standard e ci sono evidenze legali su questo. Quindi quando qualcuno ve lo dice, gli dite di scrivermi e io sarò molto contento di fornirgli tutte le evidenze legali sul fatto che quello che sta usando non è standard. Strict è lo standard aperto, applicato da ISO, sarebbe un casino, diciamo che è una merdaccia meno puzzolente, però non è certamente un formato creato per la condivisione. Il problema è che è l'ultima opzione non pubblicizzata nel menu salva con nome. Quindi non lo utilizza nessuno, lo utilizzo io per fare i test, lo utilizzano i sviluppatori di LibreOffice per fare i test, ma la realtà è che gli utenti non lo utilizzano. Poi ci sono delle simpatiche conseguenze sul fatto che il formato strict non è riconosciuto da alcune versioni di Office 365 e da alcune versioni di Office per Macintosh, per cui se nel passaggio, comunque ipotizzando anche che qualcuno utilizzi strict, interviene uno che usa Office 365, automaticamente perde il suo formato strict. ma comunque queste, come dire, sono dei collaterals simpatici. Le differenze chiave tra ODF e Office OpenXML sono queste. ODF è stato progettato come standard aperto di documenti. Office OpenXML è stato progettato come pseudo standard per propagare i problemi documentali dei formati proprietari e la strategia di lock-in per i prossimi 20-50 anni. purtroppo Microsoft ci sta riuscendo per la completa assenza dei governi e degli organismi di controllo sui formati. Purtroppo questo fa sì che la battaglia, la strada verso la sovranità digitale, che dei formati, i formati sono uno strumento per la sovranità digitale dei singoli paesi dell'Unione Europea, comunque dei paesi e delle organizzazioni, sia una strada assolutamente in salita. Purtroppo è molto difficile essere ascoltati anche a livello europeo perché abbiamo visto prima i soldi spesi dalle lobby in Europa, in Italia, per convincere appunto che Office OpenXML sia standard, eccetera, eccetera. Problema collaterale non troppo banale, oggi il 70% del malware al mondo viaggia sui file di Microsoft Office, questo lo dice Kaspersky Lab, lo ha detto nel 2018, e ci sono voci che la situazione stia addirittura peggiorando. Ovviamente c'è un fuoco di sbarramento su questo tipo di informazioni che è poderoso, però sembra che i dati di Kaspersky Lab che verranno pubblicati nel 2022, perché vengono pubblicati nel 2020, non hanno fatto il meeting e i dati non sono stati pubblicati ufficialmente, probabilmente solo ai membri di una cerchia ristretta, quelli del 2022, si favoleggia che questa percentuale, il 70%, sia addirittura superiore. Io ho finito, sono andato molto rapidamente, vi saluto, vi ringrazio, direi vi auguro anche buon appetito e ci ritroviamo alle 2 per la tavola rotonda.